Sedicesima scena, terzo fake Aspetta, fammi vedere quali libri prendi? Ok, lascialo là e poi nell'azione prendi Vai Cazzo legge questa? Oh, guarda un po' se non viene nessuno, guarda un po' Oh, ma chi sta a fa' Oh, mortacci nostra, rigate, guarda un po' se non mi sta a fa' Oh, ma si, non mi piace